Eccolo, ecco, tattica classica quella di togliere il sapore dalla vertica e poi abbracciarlo e tenere ben salta la fila di persone umane, tre persone già sono sul palo, ecco il quarto, il nostro Pasquale, il nostro Pasquale, vai, il nostro Pasquale valla valla il nostro Pasquale, oh, qua si vedono delle mutande, mutande per qualche altra cosa forse che se andano a loro non ve ne ridici no, forse non ce la fanno più ragazzi, non pensare alle mutande, non ti preoccupare che c'è stanno cose più importanti ecco qua vai, non pensare alle mutande senza stare attaccato a qualcosa non pensare alle mutande, non ti preoccupare ecco Pasquale oh, oh, oh sia più, ma come andate attaccando stu cosa qua c'è tutta la tattica di nostro zio Appiuccio nell'attaccare i premi staccio tutto coso, guardito bravo è andata il palo di sapone della festa di Sant'Antonio edizione 2018 a Macerata Campania si conclude qui in piazza De Michele. Grazie a tutti!